E' ancora allerta per l'ondata di caldo che si è abbattuta anche sulla nostra città. La protezione civile della regione campagna guidata dall'assessore Edoardo Cosenza comunica che le temperature resteranno alte almeno fino a venerdì prossimo. Dunque bisognerà attendere il prossimo fine settimana per avere un minimo di tregua. Le massime nelle ore più calde potranno anche superare in alcune zone i 38 gradi mentre durante la notte quando le minime si manterranno al di sopra dei 25 gradi i tassi di umidità supereranno il 90%. Tale situazione è associata anche ad una scarsa ventilazione. La sala operativa regionale ha provveduto ad invitare i sindaci e gli enti competenti a mantenere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda pertanto di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e tutti i soggetti a rischio. La stessa protezione civile raccomanda poi, in considerazione del fatto che le condizioni climatiche previste potrebbero causare l'inesco di incendi, di tenere alta la guardia agli enti preposti.